L'equilibrio di genere diventa uno degli argomenti che fa accendere la fase finale della campagna elettorale Entro d'Acqua. È stata Alicia Mampieri, candidato sindaco con la Torre Entro d'Acqua, per un futuro migliore, a presentare un esposto alla Prefettura dell'Aquila, al Ministero dell'Interno, contestando la composizione della lista del campanile Solidarietà e Progresso, che candida sindaco Cristian Colasante, che comprende nella rossa dei candidati al Consiglio Comunale soltanto una donna. Una particolarità che non ha convinto la Mampieri, secondo la quale bisognerebbe inserire in lista almeno un terzo dell'altro sesso, secondo la normativa che disciplina l'equilibrio di genere in campagna elettorale. Non è così per la Prefettura dell'Aquila, che ha preso in carico la segnalazione del candidato sindaco, ma ha confermato la regolarità delle procedure di presentazione delle liste. Da donna che ha fatto le battaglie per le donne al suo tempo e ha scritto anche le leggi sulla presenza femminile nei vari settori della vita pubblica, sono rimasta fortemente deluso di questo fatto, che c'è una norma che però non è precettiva e quindi non prevede la sanzione. Così mi ha riscosso la Prefettura. Ora aspetto la risposta all'interno e poi tornerò all'attacco anche sul quotidiano, come faccio sempre. E quanto annuncia Mampieri nel confronto televisivo andato in onda ieri sera su Onda TV. Il candidato Colasande ricorda invece che si deve garantire l'alternanza di genere e quindi inserire almeno una donna in lista, come è avvenuto nel 2015. In effetti, nei comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti, l'unica previsione dell'equilibrio di genere è contenuta nell'articolo 2,1 lettera C, oltre al comma 3 bis all'articolo 71 del decreto legislativo numero 267 del 2000, secondo il quale nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La legge tuttavia non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi. La norma consiglia l'equilibrio di genere e noi abbiamo rispettato il Consiglio, conclude il candidato Salvatore Esposito.